Via L'Abruzzo a pochi passi da via del circuito a Pescara non è una strada qualsiasi. Il nostro accompagnatore ci spiega che sotto la strada realizzata 50 anni fa scorre l'acqua. Fosso Grande inizia il suo percorso dai colli di Montesilvano e Spoltore e l'acqua che raccoglie finisce in mare. Un sito dunque sui generis per la realizzazione di un parco fotovoltaico come voluto dal comune di Pescara e oggetto di una delibera digiunta che ne affida la progettualità a Pescara Energia. È successo che da quando la parte finale di Fosso Grande è stata coperta non è mai stata fatta nessuna manutenzione dell'alveo per cui ad un'esplorazione che è stata fatta con mezzi meccanici risulta pieno di residui, di piante, di metallo, di tutto quello che l'acqua piovana ha portato qui sotto. Quest'area ha visto due grandi alluvioni dicembre 2013 e luglio 2019 con tutti i danni annessi, case garage allagati e con Viale Abruzzo che è diventato un fiume praticamente in piena. Prima del progetto di economia circolare finalizzato alla produzione di energia da fonti rinnovabili che è sempre una buona notizia, tocca trovare una soluzione a un problema che non si può bypassare con un annuncio qualsiasi. Questa è la posizione del comitato che spiega anche le sue ragioni. Noi sono tantissimi anni che siamo qui in zona e ci cerchiamo delle soluzioni abbiamo interpellato degli ingegneri idraulici e ci hanno spiegato semplicemente la faccenda che la parte coperta non può sopportare la quantità d'acqua che in certi regimi arriva per cui le ipotesi sono due. O si aumenta la capacità della parte coperta, quindi bisognerebbe riaprire, allargare le sezioni o si fa una seconda via che porta al fiume per aumentare la portata dell'acqua oppure, cosa ancora possibile, fare un bacino di decantazione a monte della zona qui nella zona dove c'è la motorizzazione civile di Pescara, lì fare un bacino che si riempie collegato al fosso, che si riempie quando piove molto e che poi con delle paratie può essere svuotato lentamente nel corso dei giorni. Dove immagina possano essere installati questi pannelli? I pannelli per me non lo so, penso che li vorrebbero mettere vicino sempre lì alla zona della motorizzazione ma lì ogni giorno se ne sente una, una volta ci devono fare lo stadio, poi ci devono fare le piscine perché queste sono ballon de sé, si chiamano.